Salve a tutti e benvenuti in questo tredicesimo episodio di FIFA Carriera Allenatore Parma Atalanta Ho la squadra stanca morta Mi avete detto se vinci in modalità esperta aumenta la difficoltà Modalità campione Ho com'è la sensazione che morirò presto Cos'è? Vabbè No ma il giorno che sto registrando questo episodio c'è Parma Atalanta Ma che cavolo? No 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 Devo vincere assolutamente Oh non riesco a pigliare la palla Cassano batte il calcio d'angolo per la testa di Parma Atalanta E anche in modalità campione Ci siamo Il bello è che più è difficile più uno esulta No Lodi si è strappato Cioè Lodi è morto Ho la squadra morta e non ho sostituzioni Non ne viene preso Ciccio Lodi che stanno per uscire Lodi Aia aia No grande Milante Aia 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 Milante E finisce il primo tempo incredibilmente Uno a zero Gliate gli sto pallone Milante vacci Milante cosa ha fatto? Milante Fate schifo No 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 Oh Dio Aia aia Oh va cut Sbarata Ma Milante cos'è oggi? E va cadè Non riesco a passarla E va cadè che squadra morta Milante No e no e no e Cosa ha fatto Milante? Il pallone viene preso Giorchera Giorchera la mette per Galloppa Galloppa si prova Galloppa 2 a 0 La prima partita nella mia vita Vinta in modalità campione E vince 2 a 0 Oh sentite So già Eh adesso giocare sempre in modalità campione Te lo scordi Sette camicia partita Non mi garba Parma contro Charlo Nati Il pallone viene messo per Mauri 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 La piazza Aia No 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 Bernardeschi batte il calcio d'angolo E non c'è nessuno Palo Bernardeschi batte il calcio d'angolo Ci arriva di testa un puero Aia il pallone per lo scelto Mauri Traversa C'è la mette in mezzo per nessuno Quanto pare Però c'è lo stop Di Felipe Che cos'è? Ah no e no E non ci credo Alla fine Mauri si libera Mauri Piazza Non ho capito chi ha vinto Se è successo come la Roma Io mi incacchio Comunque è persa questa In Champions Se lo ricordo Io spacco tutto E siamo fuori anche dalla Champions Cup Ora ho la squadra in perfetta forma E Io non dico più niente Che sono uscito dal cosa Avete visto Non mi sono arrabbiato più di tanto Perché Mi sto incacchiando Mentalmente No 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 ma non ci credo No vabbè La mancanza di Tielemass Con Tielemass Nelle coppe Non perdevo E sono due Non ci posso credere Le sto prendendo Dalla stessa suolo Non l'avrei mai detto Ma guardali Ma guarda Non ci credo Non ci credo No vabbè No vabbè Mirante ha fatto Dal miracolo Alla schipezza Più totale Via bianì Eh sì Ciao Tre gol Devo recuperare Tre Belfodi Si libera Ma dai Lascia libera Sì va bene Non ci credo Non ci posso credere Non ci credo Ma fate il pallonetto Sto perdendo Sto perdendo 4 a 0 Con Sassuolo Fine primo tempo Belfodi Le vabbè Come faccio Quattro gol Guardali 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 Cassano 4 a 1 Via bianì Che cosa ha fatto 4 a 2 Galloppa 4 a 3 Ok ok Dai un gol Cassano 4 a 4 Voi non avete idea Di quanto Stavo piangendo dentro Via bianì La crossa in mezzo Per Cassano Di testa Attraversa Cassano Eccolo lì Belfodi La mette Cosa Cassano Batte il calcio D'angolo Per paletta Signori Cassano E vabbè Finisce la partita 4 a 4 Ah ma non sono uscito Dalla Champions Cup Non avevano ancora estratto Oh grazie al cielo Qualificazioni Campionato europeo Notare la squadra Guardare la punta Ibraimovic Palone viene messo In mezzo per Zlatan Ibra Che cacchio Ibraimovic E con quale facilità Palone viene messo Per Ibra 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 Attenzione Parola per la romaria Fini il primo 6.0 per noi Il pallone per la romani Ero Ria 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 Cacca Niklic Elm Batte il calcio D'angolo Per la testa di Cacca Elm Batte il calcio D'angolo Per la testa di Cacca Cacata E finisce la partita 2 a 0 E finisce anche l'episodio Quindi grazie a tutti Buon benvenuti Io sono X Ciao a tutti